Gabriel Garco ha aperto la nuova stagione di Verissimo, concedendo una chiacchierata a Silvia Toffanin con la quale ha fatto un bilancio dei suoi 50 anni, compiuti lo scorso 12 un'intervista che a qualcuno è andata di traverso, molti utenti sintonizzati su Canale 5, infatti, si sono riversati su social ed hanno riservato diverse critiche e varie spernacchiate, C'è chi ha ripenuto l'intervento dell'attore torinese ridondante e infarcito di tematiche trite e ritrite, tanti cinguetti arrivati su Twitter hanno consigliato alla trasmissione di invitare personaggi meno inflazionati mediaticamente, e chi ha nuovamente fatto dell'ironia sulla trasformazione del viso Serventi a caldo, Gabriel Garco è il crin delle frasi da Boomer, Garco avverissimo, da quando si è svelato Gaio appare plastificato e con argomenti anco No ma gli zigomi un po' più gonfi no? Ma Garco assomiglia sempre di più a Eva Grimaldio è una mia impressione Garco si è digi evoluto in Enrico Papi E' impressionante la somiglia e ancora, e niente un altro che non si arrende ad invecchiare e sta diventando di cera a forza di filler Garco è di gomma ormai, Gabriel Garco sarebbe stato un concorrente super trash al GF VIP, che spreco, sempre in forma imma Nel corso dell'intervista Silvia Toffanin ha ricordato anche che Garco, per anni, ha tenuto nascosto il suo reale orientamento, giocando con il gossip e le copertine Altrimenti detto, ha finto relazioni inesistenti con delle donne Alla fine non c'è stato niente di male, è stato regalato un sogno, ha chiusato il divo, facendo storcere il naso a qualcuno che, sempre via social, non ha trovato proprio corretto